E' iniziata oggi presso la cittadella regionale la due giorni di incontri fra operatori statunitensi dell'area di Chicago e operatori calabresi dei settori turistico e agroalimentare. L'iniziativa si colloca all'interno delle azioni messe in campo dalla regione Calabria, settore internazionalizzazione del Dipartimento Presidenza al fine di favorire e sostenere l'accesso delle imprese calabrese ai mercati esteri. La missione commerciale è stata curata dalla Camera di Commercio italo-americana del Midwest nell'ambito della più ampia strategia di promozione delle imprese calabresi attraverso progetti di cooperazione attivati con le Camere di Commercio italiane all'estero e finanziate attraverso le risorse finanziarie del Piano di Azione e Coesione 2014-2020. Durante cinque giorni di missione si daranno degli incontri mirati a inserire le imprese calabresi in un mercato potenziale di 9 milioni di consumatori, tanti sono gli abitanti di Chicago e dei suoi dintorni. Il progetto, afferma Fulvio Calcinardi, il segretario generale della Camera di Commercio del Midwest, è fra i più ambiziosi e stimolanti che abbiamo seguito nel corso degli ultimi anni. Il taglio è molto operativo, le altre azioni in programma da luglio a Chicago sono fortemente indirizzate ai consumatori. Azioni promozionali in punti vendita al dettaglio, come tematiche in ristoranti di alta fascia, uno showroom temporaneo aperto al pubblico nel cuore della città di Chicago. Certi che i prodotti eccellenti e una terra bellissima troveranno in un mercato certo competitivo, ma in grado di premiare i prodotti di nicchia e i servizi turistici legati alle esperienze particolari alla cura della gente, la giusta gratificazione.